Buongiorno, sono Dominique Duprec di Bix, lavoro come Senior Business Development Manager nel Dipartimento Capacità. Siamo venuti oggi a presentare la nostra azienda, siamo fornitore di servizi vocali, voci, dati mobili, ma anche capacità e specificamente oggi abbiamo parlato di tre servizi per poter aiutare i vostri membri per quanto riguarda Remote Peering a livello internazionale, per quanto riguarda le connessioni Ethernet a livello mondiale, basato sulla nostra rete che è dispersa per tutto nel mondo e anche per poter presentarci come potenziale IP Transit fornitore a tutti i vostri membri. Siamo connessi a 12 punti di Internet Exchange attraverso il mondo con in totale 1500 membri, quindi offriamo la possibilità ai vostri membri di sviluppare la loro rete di connettività sul livello internazionale e mondiale.